Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa lezione di geometria analitica sulla retta e, precisamente, parleremo del fascio di rette di centro A. Consideriamo un sistema di assi cartesiano e prendiamo su questo sistema un punto A di coordinate generiche. Giusto per fissare le idee, lo sceglieremo di coordinata meno 7 più 3. Quindi il punto A sarà questo punto qui. Ci si chiede, quante sono le rette a passare per questo punto A? Sicuramente passerà per questo punto A la retta che ho appena disegnato. Sicuramente passerà anche quest'altra retta qui. Ovviamente questa retta passa per A, questa retta passa per A e, come ho disegnato queste quattro, potrei disegnarne altre infinite. Per un punto preso sul piano cartesiano passano, ovviamente, infinite rette. Ma esiste un'equazione in grado di descrivere tutte queste infinite rette? Beh, sì, questa equazione esiste ed è la seguente. Se scriviamo A di coordinata, abbiamo detto, meno 7, 3, e indichiamo con x con A l'ascissa generica di A e y con A l'ordinata generica di un punto A, l'equazione del fascio di centro A è la seguente, y meno y con A uguale M che moltiplica x meno x con A. Quindi sostituendo i valori numerici all'interno di questa equazione generica, quindi specificando il nostro caso, otterremo y meno 3 uguale M che moltiplica x meno meno 7, quindi x più 7. Continuiamo a svolgere questi calcoli e otteniamo y meno 3 uguale Mx più 7m, da cui, spostando il 3 al secondo membro, col segno ovviamente cambiato, otteniamo y uguale Mx più 7m più 3. Questa che abbiamo appena ottenuto è l'equazione di questo fascio di rette. Tutte le rette di questo fascio sono descritte da questa equazione qui. Ovviamente al variare di questo parametro M, varierà la retta che prenderemo in considerazione. Se il nostro esercizio avesse chiesto, tra le infinite rette del fascio passante per il punto A di coordinata meno 7 e 3, scegliere quella che ha un M pari a 2, noi avremmo dovuto semplicemente, all'interno di questa equazione qua, sostituire M pari a 2 all'interno. Quindi avremmo ottenuto y uguale 2x più 14 più 3. Quindi avremmo ottenuto y uguale 2x più 17. Facciamo qualche altro esempio giusto per chiarire le idee. Prendiamo un sistema di assi cartesiani e vediamo che equazione ha il fascio passante per il punto di centro 5,5. Quindi se qua abbiamo un punto A che è come coordinata 5,5, vogliamo sapere qual è l'equazione del fascio di rette che ha centro in 5,5. Bene, l'equazione del fascio è esattamente identica a quella che abbiamo scelto prima, ed è la seguente. y meno y con A uguale M che moltiplica x meno x con A, dove y con A è uguale a 5, ed x con A pure è pari a 5, quindi y meno 5 uguale M che moltiplica x meno 5. Quindi y meno 5 uguale Mx meno 5M. Quindi y uguale Mx meno 5M più 5. Questa è l'equazione del fascio di rette centrato nel punto 5,5. Se il nostro esercizio avesse richiesto qual è tra le infinite rette di questo fascio, quella che ha un coefficiente angolare M pari ad 1, noi avremmo sostituito M pari ad 1. All'interno di questa equazione avremmo ottenuto y uguale x meno 5 più 5. Quindi y uguale x. Se l'esercizio avesse chiesto qual è tra le infinite rette di questo fascio, la retta che passa per il punto B di coordinate 2,0, noi avremmo dovuto sostituire questo punto all'interno di questo fascio per calcolarci M. Vediamo che cosa sarebbe successo, che cosa avremmo ottenuto. Beh, sostituendo 2 al posto di x e 0 al posto di y, avremmo ottenuto 0 al posto di y uguale 2M meno 5M più 5. Quindi avremmo ottenuto 0 uguale 2M meno 5M fa meno 3M più 5. Spostando meno 3M al primo membro avremmo ottenuto 3M uguale 5, da cui M uguale 5 terzi. A questo punto, sostituendo M pari 5 terzi all'interno di questo fascio, avremmo ottenuto effettivamente l'equazione della retta passante per il punto 2,0, oltre che per il punto A di coordinate 5,5. Facciamo ancora un esempio e consideriamo il fascio di retta passante per il punto A di coordinate 1,0. L'equazione è sempre la stessa. y meno y con A uguale M che moltiplica x meno x con A. Quindi y meno 0 uguale M per x meno 1. Quindi y uguale Mx meno M. Domanda. Tra le infinite rette di questo fascio, qual è quella che è il coefficiente angolare pari a 5? Ovviamente M uguale 5 va sostituito all'interno di questa equazione, col risultato di ottenere y uguale 5x meno 5. Domanda. Tra le infinite rette di questo fascio, qual è quella che passa per il punto B di coordinate 2,0? Avremmo dovuto semplicemente sostituire il punto B di coordinate 2,0 all'interno di questo fascio. E avremmo ottenuto, al posto di y non ci mettiamo 0, quindi 0. uguale M per 2, perché al posto di x dobbiamo sostituire 2, M per 2, meno M. Quindi 0 uguale 2M meno M, quindi M uguale 0. Bene, sostituendo la M all'interno di questa equazione avremmo ottenuto y uguale 0. y uguale 0 è proprio la retta che passa per il punto B di coordinate 2,0, oltre che per il punto A di coordinate 1,0. Facendo un breve riepilogo, abbiamo detto che un fascio di rette è un insieme di tutte le rette che passa per un punto. Questo quando si parla di fascio di rette centrato in un determinato punto del piano cartesiano. Come si fa a scrivere l'equazione di questo fascio di rette? Beh, l'equazione è la seguente, y meno y con A uguale M che moltiplica x meno x con A. Il risultato di questa equazione sarà un'equazione che ha come parametro il parametro M. Questo parametro M dobbiamo specificarlo se vogliamo distinguere una delle infinite rette di questo fascio. Altrimenti, lasciando l'equazione così com'è, non distingueremo soltanto una tra le infinite rette del fascio, ma indicheremo contemporaneamente tutte le infinite rette. Ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questa lezione e rimando ogni approfondimento o vostre eventuali richieste al nostro forum.